Ciao a tutti, bentornati al canale, e sì, io sono Gerli e oggi per la prima volta andiamo dal Lidl per scoprire tutte le novità, almeno le novità per me perché io qua vengo una volta all'anno, però se vedo che questo video vi piace, continuerò e verrò più spesso. Vi ricordo che già nel canale facciamo questi tour in giro per i negozi, e va bene, non mi perdo in chiacchiere, ed iniziamo subito. La prima cosa che vi farò vedere sono gli smalti, sapete che questo è stato il mio primo amore qua su YouTube, io ho iniziato il canale più di 13 anni fa facendo vedere le mie nail art, però per questioni personali non le faccio più. E mentre vi faccio vedere i prodotti, fondotinta, va bene, tutte queste cose, vi chiedo, chi di voi mi segue da più di 13 anni? Mamma mia, come? Cioè, il tempo vola. Ja mi ricordo quando stavo io sul water, perché io registravo, voi non lo sapevate, io registravo sul water, però già poi dopo quei video li ho cancellati. Non lo so se è too much information, o come si dica, però va bene. Allora, quali ombretti? Ah, guardate, i mascara, da anni che io non provo questi qua. Questi ombretti a due ce l'ho avuto. Allora, i prezzi sono quelli che stanno riportati sopra, io purtroppo questa cosa non me le ricordavo, davvero, e ho iniziato a registrare i prezzi sotto. Quindi, i prezzi, almeno per questo video, perché sono state così, voi non state vedendo, però sono state così, a non caricare questo video per via di prezzi, però va bene. Una mia amica che sta a Reggio Emilia mi ha detto che questa è una limit edizione, non una edizione limitata. Io qua la vedo, cioè da nessuna parte lo diceva, quindi comunque vi lo farò vedere qua. Ci sono, almeno, gli ingredienti, questa è la linea bio. Io conosco la Sien Natur, va bene, nel canale. Ci sono tanti, tanti video dove ho parlato del bio. Qua, ragazze, guardate, le persone, va bene, hanno le mani lunghe e allora si portano via tutte, quindi questo non l'ho fatto vedere. Di questo qua, mi sa che su Instagram ve l'avevo fatto vedere, io l'ho preso, l'ho testato, cioè ormai già non ce l'ho, solo che per togliere il mascara e quei, cioè, è un po' così così. Qua, stavo vedendo se lo prendevo o no, perché, come vi ho detto, da mesi, cioè io vengo qua tipo una, due, tre volte all'anno. Ci sono prodotti nuovi per me, queste per me sono novità, però queste qua, no queste, queste che ti farò vedere tra qualche secondo, già le ho provate, però penso che ha cambiato, come si chiama, il formato. Vedo che c'è anche la crema, ci sono altri idratanti. Io avevo utilizzato questo anni fa, vi parlo tipo sette, otto anni fa, quando ho uscito questo, il contorno, io ce l'ho avuto. Non mi ricordo come mi è andata bene, perché stavo parlando di otto anni fa. Poi, questo qua è un olio, un olio di tri oil, va bene, l'odore può essere un po' forte. Ho sentito, ho sentito, non mi credete che per i pidocchi vada bene, quindi non lo so se è vero. E poi qua c'è la rosa moschetta, è l'olio di rosa moschetta. Questa nel canale c'è la rubrica della skin care, se volete andare là, dare un'occhiata, vi parlo di tutte le proprietà, di quasi tutti gli oli che io uso per il viso. E poi ho trovato questo che per il seno, cioè per mettere per il seno, io nella mia epoca quando sono stata incinta, utilizzavo l'olio di karite che è buonissimo, nemmeno una smaliatura si dice, non mi uccita niente. E poi qua, guardate, eccolo lì con le mandorle, perché l'olio di mandorle, vedo che tante, quasi tutte le persone, le persone che io conosco hanno utilizzato l'olio di mandorle. Allora qua non fate caso ai prezzi ragazzi, sapete come va bene sbagliato. Questo è un idratante per il viso, una crema idratante per il viso. E poi che altra cosa vi potrei far vedere, perché davvero sono stata così a non caricare il video. Qua, che cos'è? Allora, ecco lì, ci sono questi qua. Questa già non è la linea biologica, che è la siena normale, che io, allora, cioè degusti vos. Io preferisco sul viso e sui capelli, vado, ciò sul biologico. Ja, per il corpo, me ne frega, davvero è così, è così. Ok, poi qua, guardate, questo qua, il formato è così, lo giro, potete fare stop e stoppare il video per vedere un po'. Sono 30 ml e qua, vediamo, questa è già la cinquella gold e va bene già questo ormai, penso che li conoscete tutti, quelle che andiamo a Lidl. Io questo lo vedevo molto, molto quando stavo in Italia. E poi, qua che cosa sono? I profumi. Non ho testato nessuno, perché a me piace testarlo sulla pelle, ma con una mano non potevo. Perché mi piace sulla pelle, non sul cartoncino? Perché secondo me, con il pH, che io ho, vedo un po' se va bene o no. Qua mi sono preso uno di questi, perché no, perché sì ragazzi, continuiamo ad avere questi, cioè stare un po' attenti ragazzi, guarda questo, c'è il formato più grande, così. E ho preso anche le mascherine, perché va bene, bisogna, sicuramente mi vedrete in alcuni video dove vi faccio vedere dei vestiti, borse, sicuramente sto io con la mascherina. Tutte queste maschere, viso, tipo tissù, va bene, tutte queste già le ho testate nel canale. Questa qua, vi la ricordate che sembra come una, come era come un'argilla? Mi la ricordo anch'io. Stanno lì, quasi tutte queste già le ho testate ragazzi, nella rubrica di Skincare C. E poi continuo qua facendo vedere questa, questa alta, alta, un'altra crema per il viso, va bene, sono tutti questi, penso che cambia la proprietà una o l'altra, dipende l'età, dipende quello che vuoi. E questo è un'argilla, un'argilla verde. Vi ricordo che l'argilla è molto purificante per il viso, va benissimo, va bene. Nel canale ho tanti, tanti video di Skincare dove vi ne ho parlato tantissimo. E poi, va bene, che altro c'è? Va bene, ci sono tutte queste creme con tornocchi, balsamo. Ah, già che ho detto balsamo, stavo cercando il balsamo, balsamo, il balsamo labbra, però non l'ho trovato. Nemmeno quello che non aveva un buon inci, però che io lo prendevo, e quello che era giallo con il miele, non c'è ragazzi, no. Questo qua non è il prezzo, ragazzi, io mi sono sbagliata, il prezzo è quello che riusciamo a vedere là sopra. Questo è per il viso, sono come delle bocettine piccoline, così, ecco lì. Sinceramente, io questi prodotti qua, che non sono della Sien Natur, non li provo. Anzi, la Sien Natur da un bel po' che non la provo, l'ultima cosa che ho provato è stato il tonico, il tonico no, come si chiama, l'acqua micelare che vi ho fatto vedere. Questa è la Sien Blue Light, non è il prezzo, ragazzi. Davvero, davvero, chiedo umilmente, scusa, questa scatola stava vuota, un'altra amica, sapete, no? Delle cose che non sono sue, le persone a volte si prendono le cose, questa cosa a me dà fastidio. Ok, poi qua, vediamo qua, ecco lì, va bene, potete fare zoom per vedere i prezzi, penso che 2 euro. Ok, qua nella zona della parte, va bene, qua a fianco, c'è la CC Cream e poi la BB Cream, eccola qua. Sono tre toni, quello più chiaro, medio, scuro. Potete fare un mix, il prezzo mi sembra che è intorno a 4 euro, 3-4 euro. Il mix intendo io, tu prendi questa oscura, più quella chiara, se per caso quella di medio non ti va bene, se ti piace, io perché non utilizzo né BB Cream, CC Cream, niente. Non utilizzo sulla mia pelle, già bene, ho parlato tempo fa, tanto tempo fa, il perché. Ecco lì i tre colori, allora 4-30. Qua, ecco qui, il levasmalto, così c'è questo libero dell'acetona e poi questo rosa, io di questo ne avevo uno, però hanno cambiato il formato sotto, la parte di sopra si mantiene uguale ed è molto comodo, vi lo consiglio. Prendete il levasmalto senza l'acetona per piacere, le vostre unghie gradiranno. E qua che c'è questo? Ah, questo è un gel, cioè per, un gel sì, per pulire il viso, non è biologico, non è della sin natura, però comunque è degustivo. E qua c'è un tonico, un tonico per il viso, ragazze. E qua che altro c'è? Ah, questo è un'acqua micelare, va bene, si è aperta ragazze, l'ho presa, l'ho presa male. Si è aperta l'acqua micelare, purtroppo i prezzi, mamma mia, mamma mia, ma io. Invece questo è un bifasico, ecco lì, questo è già per le mascarate, avete presente quei proti che, va bene, che sono un po' da farli, va bene, mi avete capito. E qua che c'è? Ah, questo è un esfoliante per il viso, mi raccomando, non esfoliatevi tanto, tanto il viso perché fa male. Questo è una spugna. E voi direte perché fa male esfoliarsi il viso? Perché va bene, andiamo a togliere la pelle morta, queste lembrità, tutto quello, però andiamo a togliere anche le cose buone della nostra pelle. Quindi se volete fare un'esfoliazione, almeno che sia una volta all'anno, che se voi fate la vostra routine di skincare bene, non c'è bisogno tanto di esfoliarci il viso, ragazze. Se no, nel canale ho qualche esfoliante naturale, tipo con l'avena e con queste cose che sono meno aggressive per la nostra pelle. Qua vi sto facendo vedere veloce, veloce questo qua, della, oddio, come è che si chiamava? Sienna Beauty, una cosa così, che avevo persone a fianco, non mi piace dare fastidio. Qua sono andata a vedere i burri, i burri, va bene, queste qua, queste confezioni, questo all'olivo, io utilizzavo una, mi sembra che era dei provenzali, mi sa di sì, mi sa di sì, era un burro per il corpo, sì, ok. Poi questa con l'argan, non è biologico, ve lo ho detto, va bene. Qua questo ho pensato che era della Nivea, invece no, perché somiglia tanto a quello della Nivea, o Nivea. E questi qua, va bene, penso che da un bel po' li ho visto, però solo che io non li faccio vedere. Questa confezione qua da anni, ragazzi, da anni che la sto guardando, cioè che la vedo. Io in lontananza si riesce a vedere un po' il prezzo che non passa i 5 euro. 4 e qualcosa. E questa qua a fianco, anche, è uguale, cioè di cocco, cioè non è uguale, mi avete capito, no? È di cocco, però la confezione è diversa. E poi ho trovato queste qua, che è una, sì, come una lozione, è corpo. E questa a fianco, che era l'unica rimasta. Il video finisce così, vi mando tanti vestiti e ci vediamo prossimamente ad un prossimo video. Ciao!